Lazio, fondata nel 1900, capace di vincere in Italia, due scudetti, sette coppe Italia e cinque supercoppe italiane. Abbiamo vinto la supercoppa Italia in arriate! E a livello internazionale, una coppa delle coppe, una supercoppa UEFA e una coppa delle Alpi. Fino ad oggi, sotto la gestione dell'Otito, ha vinto qualche trofeo, ma non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Oggi siamo qua per stravolgere tutto. Via l'Otito e finalmente nella squadra si vede una proprietà con ambizione e voglia di vincere. Il nuovo allenatore a sorpresa sarà Simeone. Il suo obiettivo sarà quello di vincere uno scudetto nei prossimi cinque anni. Scudetto che manca dal 2000, proprio quando Simeone militava nella Lazio. E adesso iniziamo con la prima stagione. Formazione scelta per il ciolo Simeone. La Lazio si schiererà con un 4-4-2, anche se sembra un 4-2-3-1. Tattica difesa oltranza, chiaramente, perché il ciolismo alla fine è un po' quello. Il modulo alternativo sarà il 3-5-2, ogni tanto ha usato, ma lo vedremo veramente poco. In particolarità, in attacco abbiamo Immobile e Luis Alberto, almeno allo stato attuale. Ho deciso di mettere Immobile prima punta e Luis Alberto un pochino dietro, in modo da riuscire a collocarlo in questo scacchiere, visto che a centrocampo a difendere ce lo vedo un po' male. Adesso andiamo a vedere il mercato. Il primo acquisto di Diego Pablo Simeone è Sebastian Coates, dallo Sporting Lisbona, difensore centrale uruguagio, molto forte fisicamente, molto aggressivo, è sicuramente quello che fa il caso di Simeone. Pagato 10 milioni e 300 mila, è in scadenza di contratto. E arriviamo alla prima cessione, per quanto riguarda la Lazio del ciolo, se ne va Marusic, acquistato dal Milan per 24 milioni, era un'offerta irrinunciabile, visto che ha 30 anni. Per rinforzare gli esterni, che sono un punto del campo fondamentale per ripartire, dopo che abbiamo difeso, siamo andati a prendere Luis Enrique, del Betis Siviglia, esterno sinistro o esterno destro, rapido, bravo nel dribbling, ha 22 anni, quindi può crescere molto, un acquisto anche in ottica futura. Intanto farà turnover, per far riprendere fiato a Zaccagni e a Felipe Anderson. Pagato 21 milioni più il cartellino di Pedro, che ormai andava verso fine carriera. Per non lasciare sguarnita la fascia destra, ovvero i terzini destri, sono andato a prendermi Robert Skov, giocatore molto particolare, molto bravo con i piedi, non un gran che difensivamente, ma secondo me si può rivelare utile. Intanto partirà come riserva a destra, poi vediamo. Abbiamo pagato solo 3 milioni e 4, visto che è scadenza di contratto. Visto che abbiamo sceduto Marusi, ci avevamo bisogno di un terzino sinistro titolare, e sono andato a prendere un nome abbastanza ricercato. Malcolm Braida del San Lorenzo, squadra argentina. Perché? Non lo so, ce lo vedo veramente bene alla Lazio di Simeone. Ha un 77 di overall, lo abbiamo pagato a 9 milioni e mezzo, quindi niente male. E c'è stato un piccolo cambiamento in corso d'opera, ho deciso di rispostare Skov, invece che fargli fare il terzino, ho deciso di rispostarlo come esterno di centrocampo, mi ha fatto pure un più 3 perché ha caratteristiche veramente interessanti a livello offensivo, quindi preferisco usarlo come riserva sugli esterni, ed eventualmente come terzino qualora ce ne fosse bisogno. Visto che in difesa abbiamo venduto Patrick, o Patrick, non so bene come chiamarlo, ho deciso di andare ad acquistare un altro difensore che ci è costato abbastanza, però secondo me nel corso del tempo si rivelerà molto utile, ovvero Ladislav Krejci dallo Sparta Praga. Difensore centrale che può fare anche il mediano, sport fisicamente molto aggressivo, mancino, ottimo per fare la riserva di Romagnoli, abbiamo pagato 18 milioni e 9, però abbiamo ancora da vendere qualche giocatore. Quindi breve riassuntino del mercato visto che ormai si è concluso, abbiamo preso Coates in difesa per 10 milioni, abbiamo venduto Maruzic al Milan per 24 e 3, ci siamo andati a prendere Luiz Enrique da Real Betis per 21 milioni più Pedro, abbiamo acquistato Skov che poi abbiamo trasformato in esterno sinistro per 3 milioni e 4, abbiamo venduto Patric alla Juve per 7 milioni e 6, ci siamo presi Braida per sostituire Maruzic che se n'è andato, abbiamo preso poi Krejci per rendere più completo il nostro pacchetto difensivo e purtroppo, purtroppo, ci sono rimasti sul gruppone alcuni giocatori che non siamo riusciti a piazzare, per esempio González, Basic, Isaacsen e soprattutto Andrea Anderson e Rossi che volevo chiaramente vendere. Adesso simuliamo fino a metà stagione e nel mercato di gennaio penso che cercheremo di liberarci dei giocatori che ho citato per provare ad acquistare qualcuno o meglio andare a riscattare uno tra Rovella e Guendonzi, visto che il nostro centrocampo in questo momento è totalmente in prestito. Siamo arrivati a metà stagione e il mercato di gennaio si apre con la cessione di Luis Alberto al Barcellona, perché? Perché mi ha chiesto di essere ceduto, che novità, vero, su questo gioco, che grande novità. Quanto meno dalla sua cessione abbiamo incassato 61 milioni che adesso possiamo spendere sul mercato. Prima di concentrarci sul mercato andiamo a vedere che siamo non in classifica, la situazione non è delle migliori, 27 punti, considerate che dovremmo almeno arrivare in quarta posizione, quindi siamo sotto dei 4 punti, dobbiamo impegnarci un pochino di più. Siamo passati però in Champions e siamo contro il Razzo Cedad, veramente interessante, spero quantomeno di andare avanti in Champions perché ci potremmo divertire. Diamo una breve occhiata alle statistiche perché sono veramente sballate in una maniera assurda. Kamada 20 presenze e 6 gol, ok. Skov 19 presenze e 6 gol, Luiz Enrique 22 presenze e 5 gol, Castellanos 20 presenze e 5 gol, e incredibilmente Lazzari 24 presenze e 4 gol, Bene Immobile circa 7 presenze e 4 gol ma gioca poco. Tra l'altro il Marsiglia si è richiamato Gwendunzi perché stava giocando veramente poco. Visto che abbiamo sceduto Luis Alberto, la prima cosa che sono andato a fare è andarmi ad acquistare Rovella, che era in prestito da noi dalla Juve, pagato 35 milioni e 6. Però questo è un investimento molto importante per il futuro, visto che in 5 stagioni dobbiamo vincere uno scudetto. E finalmente, dopo veramente troppi mesi, se ne va Isaksen, giocatore che non riusciva a collocare tatticamente per il modulo che usa Simeone, e questo ragazzo ci va a liberare la possibilità di acquistare un giocatore. Grazie alla cessione di Isaksen, riusciamo a comprarci un mediano titolare per la squadra, ovvero Florentino dal Benfica. Giocatore forte fisicamente, bravo in interdizione, è costato abbastanza perché lo abbiamo pagato 33 milioni, però vista la cessione di Luis Alberto, ci siamo rifatti il centrocampo. Quindi, breve riassuntino del mercato di gennaio, via Luis Alberto al Barcellona per 56 milioni e mezzo, riscatto di Rovella a 35, via Isaksen a 13 e mezzo e dentro Florentino a 33. Speriamo di riuscire a migliorare la situazione in classifica, adesso andiamo alla fine della stagione. Si è conclusa la prima stagione, siamo riusciti a strappare un quarto posto, che dire a culo è la cosa più corretta. 73 punti, 75 gol fatti, 47 subiti. Dobbiamo migliorare per l'anno successivo. In Supercoppa siamo usciti in semifinale contro l'Inter, purtroppo. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, siamo usciti in semifinale, ma contro la Roma, peggio ancora. E per quanto riguarda la Champions, siamo usciti per un totale di 5 a 1 contro la Real Sociedad. E io che pensavo che fosse una partita abbordabile. Stagione così e così, spero che l'anno prossimo sia un pochino più semplice. Miglior marcatore stagionale immobile, con 19 gol e un assist. Segue Kamada, 11 gol e 7 assist. Bene anche Zaccagni con 9 gol e 8 assist. Bene anche Castellanos, da riserva di immobile, anche se in realtà ha giocato di più. 7 gol e 1 assist. Contento anche per Rovella, che ce lo siamo riscattati, sta crescendo molto. Bene anche Luis Enrique, la prima stagione, 6 gol e 3 assist. Si è alternato molto con Felipe Anderson. Anzi, Felipe Anderson ha giocato addirittura meno. Si apre la nuova stagione con la cessione di Isai, visto che mi aveva chiesto di essere ceduto, ma l'avrei ceduto comunque, perché volevo prendere qualcuno di un po' più prestante, mettiamola così. E la prima cosa che vado a fare, è riscattare Luca Pellegrini della Juve. Visto che ha giocato abbastanza l'anno scorso, ed è cresciuto, perché ha fatto un più 4 se non sbaglio, ho deciso di riscattarlo per 14 milioni. Dato che poi anche quest'anno ci siamo qualificati in Champions, è il momento di darci un po' da fare sul mercato. È arrivata un'offerta troppo importante per rifiutarla per Crecci, da parte della Juve, di quasi 40 milioni, e era abbastanza irrinunciabile. Mi dispiace venderlo, però stava giocando anche poco, si stava lamentando, nonostante abbia turnover nel contratto, ma vabbè. E quindi lo abbiamo ceduto per 37 milioni e 3. Quindi dobbiamo comprarci un centrale. È un peccato, perché a me piaceva questo giocatore. Intanto vediamo la cessione di Basic, che era un po' un esubero. Se ne va all'Atalanta per 6 milioni e 4, e questo ci fa molto comodo. Sto concentrando un po' più sulle cessioni, e poi andremo agli acquisti. E purtroppo arriva anche la cessione di Ciro Immobile. Ci hanno offerto 36 milioni, o 33, una cosa del genere, per un giocatore di 34 anni. Per quanto mi dispiace, è arrivato il momento di salutare Immobile, di fare un passo avanti. Quindi, visto e considerato che Immobile non c'è più, il nuovo capitano sarà Alessio Romagnoli. Abbiamo ceduto Cancellieri, tornato dal prestito all'Atalanta per 16 milioni, praticamente, e l'Everton si presenta con 22 milioni per Braida. Chi sono io per trattenerlo? Nessuno. Sono veramente tanti soldi per un giocatore di questo tipo, e adesso però dobbiamo un attimo ricostruire la squadra, perché siamo rimasti veramente con pochi giocatori. Il primo acquisto di questa sessione di mercato è un terzino sinistro che possa essere il titolare inamovibile, ovvero Estupignan dal Brighton. Terzino sinistro con 82 di overall pagato 33 milioni, però sicuramente ci fa fare il salto di qualità sulla fascia. E per sostituire Ciro Immobile, giocatore importantissimo, ci serviva un attaccante di spessore. Sono andato a prendermi Gonzalo Ramos, che fa la riserva al Paris Saint-Germain per 56 milioni. Acquisto molto oneroso, ma con tutte le cessioni che abbiamo fatto ci sta. Speriamo che sia il nostro attaccante per i prossimi 3-4 anni. E visto che ci serviva anche un difensore centrale, sono andato a prendermi Facundo Medina del Lenz. Andrà a fare praticamente la riserva sia di Romagnoli che di Casale. 81 di overall pagato 29 milioni, abbastanza, però ci serviva un giocatore del genere. E per non farmi mancare niente, visto che ci mancava un giocatore importante, sono andato a prendermi Brahim Diaz. Pagato una quarantina di milioni, visto che era al pieno di campioni, anche se stava trovando il suo spazio, ho deciso di riportarlo in Italia, in modo da avere un trequartista, mezza punta, barra esterno, da alternare con Kamada, o eventualmente con Zaccagni, o con Felipe Anderson. Un giocatore secondo me che può ricoprire tutti questi ruoli. Ultimo acquisto di questa sessione di mercato, Sildilla, terzino destro del Southampton, che ci serviva come riserva, o meglio che ci serve, come riserva di Lazzari. Pagato 12 milioni e mezzo. Quindi, piccolo riassunto nel mercato, Pellegrini riscattato dalla Juve per 14 milioni, gestione di un giovane della primavera, Cresci venduto alla Juve per 37 milioni, venduto Basic per 6 milioni e 4 all'Atalanta, venduto Ciro Immobile per 33 milioni e 7 al Betis, venduto Cancellieri per 15 milioni e 6 all'Atalanta, venduto Braida per 22 milioni all'Everton, grandissima plusvalenza tra l'altro, acquisto di Stupignan, terzino sinistro per 33 milioni, Dentro Brahim per 42 milioni e 2, acquisto di Medina per 29 milioni e 6, dentro Gonzalo Ramos per 56 milioni, cessione di Gila e Akpa Akpro e dentro poi Sildilla a 12 milioni, come riserva sulla destra. Quindi, per questa sessione di mercato ci siamo, la squadra è coperta in tutti i ruoli, questa è la nuova formazione, identica a prima con i giocatori diversi, simuliamo fino a metà stagione, vediamo che succede, l'obiettivo quest'anno è di avvicinarsi il più possibile allo scudetto. Siamo arrivati a metà stagione, attualmente siamo terzi in classifica, quindi sta andando molto meglio nell'anno scorso, dove eravamo decimi a metà stagione, 41 gol fatti, 23 subiti, potremmo fare un pochino meglio in difesa, però tutto sommato ci siamo. Siamo passati in Champions, però siamo passati come secondi, ovviamente perché c'è la Paris Saint Germain, ci siamo beccati il Barcellona agli ottavi, quindi anche quest'anno mi sa che andrà come andrà. Statistiche, Kamada devastante, 14 gol in 19 partite, bene Zaccagni con 8 gol in 17 partite, bene anche Brahim con 7 gol, bene Luis Enrique, 7 gol. L'unica cosa che mi turba è che Gonzalo Ramos sta facendo veramente fatica, 13 presenze e 3 gol, io non so chi stia giocando al suo posto, penso Castellanos. Sinceramente a gennaio non avrei intenzione di muovermi, anche se Lazzari mi ha chiesto di essere ceduto, quindi vediamo. Mercato di gennaio che si è appena concluso, non abbiamo fatto movimenti, visto che l'unico che era in partenza era Lazzari, ma mi è arrivata un'offerta ad un'ora dalla scadenza del mercato, dal porto, non potevo cederlo senza avere il sostituto, quindi non si è mosso nessuno. E' tutto rimandato a luglio, del mercato successivo. Adesso simuliamo fino alla fine e vediamo un po' come andrà. Siamo arrivati a fine stagione, ma prima di passare alla classifica e a tutto quello che riguarda la stagione, voglio parlarvi di una roba. Come vedete questa è la formazione, Romagnoli 85, Medina 84, Casale 82, quindi è inevitabile che, considerando anche gli altri giocatori che abbiamo in rosa, tipo Coates, che uno tra Romagnoli e Casale chiaramente siano titolari. Benissimo. Come vedete la fiducia della dirigenza è al minimo, ma perché è al minimo? Innanzitutto perché loro si aspettavano che io vincessi il campionato e Coppa Italia e che arrivassi in finale di Champions, ma anche perché è tutta la stagione che mi arrivano queste mail. Me ne voglio andare, nonostante stai giocando, il poco spazio che mi sta concedendo sta danneggiando la mia carriera Casale, Romagnoli si lamenta perché lo tolgo dal campo o perché gioca poco, cioè addirittura Romagnoli mi aveva chiesto la cessione, e comunque si è giocato le sue 33 partite in stagione, 35 la giocata in Medina e 22 Casale, cioè mi sembra abbastanza equilibrata come cosa. Vediamo se mi esonerano, a questo punto che devo fare. Comunque stagione che si è conclusa e siamo arrivati terzi con 80 punti, quindi abbiamo migliorato sicuramente la classifica dello scorso anno. Purtroppo quest'anno in Coppa Italia siamo usciti addirittura contro il Verona, se non sbaglio, contro l'Ellas Verona, beh capire perché. Per quanto riguarda la Champions, invece siamo usciti negli ottavi di finale contro il Barcellona, 4-4 e hanno vinto ai rigori, quindi stavamo per fare anche il miracolo. Non lo so, vediamo se mi esonerano, io questo video lo lascio così, vediamo che succede, andiamo avanti. Per quanto Provedel sia fondamentale nella realtà alla Lazio, su FIFA i portieri sono stra-importanti per le simulazioni. Per questo motivo sono andato a fare uno scambio. Provedel, 48 milioni per Gianluigi Donnarumma, lo so, è follia, ma arrivati a un certo punto, visto che il gioco si comporta in un certo modo con me, io mi devo comportare in un certo modo con lui. Quindi Donnarumma è il nuovo portiere della Lazio e questo spero ci porti ad alzare il livello. Dato che si è ritirato Vecino, ci serviva un centrocampista e non sono andato per il sottile, ho preso Frattesi. Era tornato al Sassuolo dopo il prestito all'Inter, 85 di overall, lo abbiamo pagato un bel po', però dobbiamo iniziare a mettere dentro dei giocatori importanti per vincere questo dannato scudetto. Intanto, come avevo preannunciato nella scorsa stagione, Lazari è stato ceduto alla Stonevilla per 26 milioni, quindi dobbiamo prendere un terzino destro. Anche a destra non siamo andati per il sottile perché sono andato a prendermi Wanderson del Monaco. Terzino destro con 82 di overall, il brasiliano, veramente interessante in fase offensiva, deve migliorare un pochino in fase difensiva ma ci lavoreremo sopra. Pagato anche lui un bel po', 38 milioni ma ne vale la pena. E purtroppo, arrivati a questo punto, sono stato costretto a cedere anche Zaccagni visto che mi ha chiesto la cessione perché questo gioco è fantastico. Ci entrano quasi 50 milioni e dobbiamo prenderci un bel esterno a sinistra. E per non farci mancare niente, il sostituto di Zaccagni che se n'è andato è Luis Diaz del Liverpool. Pagato 38 milioni, giocatore chiaramente molto forte e secondo me è perfetto per il gioco di Simeone. L'ultima cosa che ci mancava era un portiere di riserva visto che ho venduto anche Maximiano e quindi sono andato a prendermi l'Eno dal Monaco per 12 milioni, scusate. Buon portiere, 82 di overall come riserva è perfetto. La formazione attualmente è questa, secondo me può competere per lo scudetto. Siamo arrivati a metà stagione e siamo addirittura sesti in classifica. Io ragazzi non ho una spiegazione a tutto ciò, sta diventando una tragedia più che una rebuilding. Non so che dire perché questo è. Per quanto riguarda la Champions siamo passati, siamo passati primi questa volta, benissimo. Abbiamo preso la Stone Villa alle ottave di finale. Partita abbordabile, però non si sa mai con sta squadra. Rapida occhiata alle statistiche, benissimo, Gonzalo Ramos con 17 gol, anche Brahim con 13. Luis Diaz così e così, 3 gol. Romagnoli come al solito si lamenta che non gioca, boh. A gennaio sinceramente non ho intenzione di fare movimenti visto che secondo me la squadra è competitiva. Arriviamo a fine stagione e vediamo che succede. Ho deciso di vendere Romagnoli visto che rompeva il cazzo ogni stagione che non stava giocando quando in realtà stava giocando, a sto punto se ne deve andare. Quindi via Romagnoli per 37 milioni addirittura a Real Madrid. Per sostituire Romagnoli sono andato a prendermi David Anczko, difensore centrale slovacco del Feyenoord, 84 di overall, giocatore molto forte difensivamente e bravissimo a livello tecnico. Nel frattempo visto che anche Kamada aveva preso la stessa abitudine di Romagnoli di rompere le palle perché non giocava quando in realtà giocava, ho deciso di venderlo. Mi è arrivata un'offerta da Liverpool, 8 milioni più Harvey Heliot, 82 di overall, 22 anni. E che sono scemo, chiaramente l'ho accettata, quindi Kamada va a Liverpool e a noi arriva Heliot, trequartista, 22 anni, 82 di overall. ottimo. E adesso possiamo simulare fino a fine stagione. Stagione che si è conclusa, siamo arrivati quinti. Può competere per lo scudetto. Avete buona spiegazione perché io non ce l'ho. Quanto riguarda la Supercoppa, siamo usciti in semifinale contro la Juve. In Coppa Italia, come al solito, il primo turno ci uccide, ma questa volta siamo usciti ai quarti di finale con la Fiorentina. Bella la Champions perché siamo arrivati, abbiamo vinto agli ottavi contro la Stoneville, abbiamo vinto ai quarti contro il Liverpool, usciamo in semifinale contro l'Inter. La cosa bellissima è che la finale è Inter-Juve, quindi vediamo quale delle due alzerà la Champions dopo decenni. Statistiche. Gonzalo Ramos 25 gol in 52 partite, Luis Diaz 23 gol in 53 partite, Brian Diaz 19 gol in 52 partite, Luis Enrique 11 gol in 46 partite. Nonostante tutto ciò, noi siamo quinti. Quinti. Per curiosità, volevo vedere chi ha vinto la Champions, l'ha vinta la Juve ai rigori, 4-3. Andiamo con la prossima e travagliata stagione. Questa stagione si apre con la cessione di Casale, visto che anche lui, come Romagnoli, come Kamada, continuava a mandare mail per rompere i coglioni perché non stava giocando. Lo scediamo, quindi abbiamo bisogno di due difensori centrali, uno per sostituire Casale che se n'è andato all'Arsenal per 43 milioni e uno per sostituire Coates che se n'è andato a scadenza di contratto visto che era calato molto. E per sostituire Casale sono andato a prendermi Buongiorno che attualmente era al Nottingham Forest, 82 di overall, pagato una trentina di milioni. Come esterno di centrocampo a destra, visto che Philippe Anderson è calato a 77, ho deciso di rifare il colpo. Frimpong, 88 dal Bayer Leverkusen. Terzino molto offensivo che può giocare tranquillamente alto a destra con un 88 di overall in più in squadra. Io spero di riuscire a vincere sto dannato scudetto. E per sostituire Coates che se n'è andato a scadenza di contratto sono andato a prendere Lienhardt del Monaco, difensore centrale, 80 di overall, quarta scelta in difesa. E quindi con questi tre acquisti per me il mercato si conclude qua. Buongiorno per sostituire Casale che se n'è andato. Frimpong per alzare il livello della fascia destra, Casale all'Arsenal, Lienhardt per sostituire Coates. Ci potrebbe essere la cessione di Philippe Anderson. Vediamo. Intanto direi di avanzare fino a gennaio. Benissimo, il gioco ha deciso di vendermi l'automatico Ancico così a Nottingham Forest. Ragazzi, io impazzirò. Quindi ci serve un cazzo di difensore centrale. E non ci vado assolutamente per il sottile perché sono andato a prendermi Tomori dal Milan. E nelle scadenze di contratto 70 milioni e ce lo portiamo a casa. 88 di overall. Quindi questa è la rosa. Se non vinciamo lo scudetto quest'anno io ragazzi non so che dire. Siamo arrivati a metà stagione e c'è una situazione che io non avevo mai visto in vita mia. Dalla quinta alla prima tutte a 37 punti. Esattamente tutte con 11 vittorie 4 pareggi e 3 sconfitte. Tra l'altro nel mezzo c'è il Torino così e noi siamo quarti per motivi sconosciuti. Quest'anno siamo in Europa League visto che siamo arrivati i quinti c'è pure il Monza va bene. Siamo arrivati i primi nel girone mi sembra il minimo per adesso non abbiamo ancora il sorteggio dei sedicesimi di finale o degli ottavi ora mi sfugge pure. Sinceramente per quanto riguarda il mercato di gennaio a meno che Medina non venga ceduto non credo rifare movimenti la squadra è più che competitiva secondo me quindi io do il via la simulazione. Ragazzi la fottuta la porca troia fottuta di Coppa Italia ci incula sempre usciamo sempre al primo turno con la prima squadretta del cazzo che incontriamo non ne posso più sto impazzendo. La nostra avventura travagliata distruttiva si conclude qua. esonerato dalla Lazio come vi ho detto anche per la rebuilding che ho fatto con Klopp in questo canale non è detto che si raggiunga l'obiettivo e ci prestabiliamo in quanto cerco di fare le cose nella maniera più non voglio dire realistica perché questa carriera non lo è stata e volutamente non lo è stata però comunque cerco di non andare a prendere sempre i soliti giocatori sempre nello stesso modo quindi ci sta che non si raggiunga l'obiettivo che ci viene richiesto è chiaro che fosse andata a prendermi tutti i ragazzini giovani che poi migliorano e diventano dei fenomeni ce l'avremmo fatta però preferisco così mi sembra un qualcosa di più fedele alla realtà quindi il nostro sogno finisce qua io vi ringrazio per aver visto il video mi raccomando iscrivetevi lasciate un like e commentate fatemi sapere cosa ne pensate ciao 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 Grazie a tutti.